Pochi followers, scarse interazioni. I nostri politici dovrebbero lavorare sodo sul versante dei social network. Del resto il 72,8% degli italiani è sui social, dove il re incontrastato resta Facebook, seguito da Instagram e da TikTok. Di comunicazione politica tramite i social si è parlato in uno degli incontri organizzati dalla Fondazione Alessia Ballini. La comunicazione politica tramite i social network. Come sappiamo ormai non sono più un mezzo di comunicazione di nicchia, anzi sono usati dal 72,8% degli italiani, per cui si può dire quasi tutti gli italiani sono sui social. Però la comunicazione è molto diversa da quella televisiva a quella giornalistica. Alcuni politici non lo usano proprio come andrebbe usato. Chiaramente sono strumenti nuovi, con regole diverse alle quali eravamo abituati e che impongono anche un presidio costante. La fondazione si occupa appunto di formare giovani amministratori, formazione politica istituzionale, forma giovani amministratori, dedicata a questa donna, Alessia Ballini, che è stata sindaca per 10 anni e consigliera regionale. Quindi tutto quello che noi ci ispiriamo per i corsi sono proprio anche quello che lei credeva, la parità di genere, gli ideali a cui lei si è allottato e si è battuta quando era in vita.